Ieri è una stagione bellissima, ora va a concludersi con l'orologio per gli Under 14, con le ultime partite per gli Under 13. Diciamo che siamo in cima, o quasi in cima, tutte le classifiche. Abbiamo la squadra Aquilotti che mi sembra che non abbia perso. Gli esordienti ha anche un paio di sconfitte, ma ci stanno. Siamo contenti, molto contenti. Abbiamo solo un piccolo problema che vogliamo far giocare questi scoiattolini piccolini che abbiamo. Facciamo fatica a trovare palestre, a rincastrare tutto. Questo è un grosso guaio. Però ci proviamo. Sicuramente noi cerchiamo di creare giocatori autonomi e quindi quando riusciamo abbiamo giocatori che leggono le situazioni, che non hanno più bisogno di me, che hanno in mano la tecnica e sanno risolvere le cose che si presentano in campo. Non sempre ci riesce, a volte ci riesce bene. Ultimamente facciamo un po' fatica perché magari abbiamo scoperto la magia del tiro da tre punti e stiamo un po' esagerando. Però ci divertiamo lo stesso, va bene così. E d'altronde Bellinelli. Sì, d'altronde Bellinelli. D'altronde diciamo che il Seabasket vuole costruire giocatori che poi saranno liberi di andare ovunque decideranno. Noi fa piacere, io ho qualche giocatore in giro e questo mi riempie di energia per creare altri giocatori che non necessariamente dovranno giocare in questa provincia, in questa regione. Speriamo di riuscirci. Problema strutture, un problema annoso di cui parliamo in ogni occasione, qualche passo avanti, qualche novità? No, come tutti sapete c'è stata l'eccezione di quelli che si oppongono alla costruzione qua della palazzina in relazione al palazzetto a Pian di Poma, credo che ci siano degli sviluppi, nel senso che i progettisti, i proprietari e quelli che hanno intenzione di fare questa operazione dimostreranno le loro ragioni e poi si vedrà. Sicuramente noi siamo qua, siamo spettatori di una situazione che non dovremmo esserci in questa situazione. Purtroppo siamo qua ogni volta a seguire queste vicende che non fanno parte dello sport, ripeto, non fanno parte del nostro mondo ma purtroppo io ho 120 iscritti e a cui devo fare riferimento e per questa cosa dobbiamo ogni giorno parlarne, ogni giorno invitare politici, invitare persone per spiegare la nostra situazione.